Bravissima compagnia di Napoli, l'associazione Il Siparietto di Napoli che gestisce un teatro a fuori gruppa, piccolo di Napoli quindi domani sera abbiamo anche la possibilità di avere un'esibizione a un certo teatro quindi non credo di partecipare a un teatro, infine domani sera avremo un'unità di ci stare con un'altra compagnia di carriera quindi un intenso programma, c'è da divertirsi, mi fa piacere che siete venuti questa sera quindi vi auguro buon divertimento in modo che possiamo salutare con un calore un applauso questa bravissima compagnia di Sassu e questa è una ragazza supera, buon divertimento